Generazione T, che significa? Che cosa fanno? Chi sono? Significa che l'unica speranza che noi abbiamo è che l'agricoltura trovi nuove energie nei giovani e che finisca questa logica di considerare il lavoro dei contadini come il lavoro dei poveri. E cosa usano? Che cosa fanno? Quali strumenti hanno? Gli strumenti della loro giovinezza, della loro creatività e il saper mettere assieme la scienza e le moderne tecnologie con i saperi tradizionali.